Buongiorno e benvenuti al canale Redolfi Army. Io sono Daniele e abbiamo qui con noi la Vector Optics Continental. Andiamo a scoprire cosa c'è al suo interno. Un'ampia gamma in dotazione. Abbiamo anelli per il montaggio ottica, 34 mm, profilo medio. VIP Warranty, garanzia a vita sul nostro prodotto Vector. Un fighissimo tool per pulire le lenti della nostra ottica. Abbiamo una torretta sostitutiva che non presenta lo zero stop, come quella montata direttamente sull'ottica. Tubo paraluce per ogni evenienza. E infine, eccola, 5,30x56 sul primo piano focale, reticolo albero di Natale. Peso circa 800 grammi, tubo da 34 mm, con blocco sulle torrette, zero stop e indicatore di click e giri residui sulla torretta. Ovviamente illuminata, con vari indicatori posti lateralmente. Con la specifica chiave in dotazione si può effettuare lo smontaggio della torretta per andare a impostare anche lo zero stop. Modello Continental 5,30x56, uno dei tre modelli disponibili della Vector della serie 6x, oltre chiaramente al 3,18x50 e al 4,24x50. Vi lasciamo tutte le informazioni specifiche in descrizione e ci vediamo al prossimo video.